Ben otto persone ricoverate in pneumologia subintensiva, tre malattie infettive ed uno nell'area isolamento covid del pronto soccorso. Sale purtroppo a Benevento il numero delle persone costrette a recarsi in ospedale a causa dei sintomi del covid. Una situazione delicata e attenzionata dalle autorità sanitarie, in particolare dall'ASL. Tra dubbi e qualche timore, questa mattina a Benevento circa mille studenti sono tornati in classe per la ripresa anticipata di due giorni delle lezioni in presenza. Il sindaco Mastella ha voluto presenziare all'ingresso in aula degli studenti dello storico con mito nazionale Giamnone a Piazza Roma e dell'istituto comprensivo Federico Torre. Si torna in classe dunque tra speranze e qualche timore. Ogni apertura di una scuola, ogni portone di scuola che si apre è un invito alla speranza ed è un segnale molto importante quello di stamattina per la città ma anche per il paese con l'inizio dell'anno scolastico. Io sono sicura che la situazione sarà decisamente più gestibile dell'anno scorso. Nuove regole per mensi e trasporti a Benevento per l'anno scolastico appena cominciato. La mensa parte con un nuovo capitolato, con un servizio di plastic free, con prodotti a chilometro zero, con un contributo fondamentale per sostenere anche il costo della mensa per le famiglie che hanno un ISEE fino a 21.000 euro è praticamente gratuita.